Max Abraham è stato un fisico e matematico tedesco, tra i primi ad occuparsi della teoria della relatività, lavorò in concerto con Tullio Levi Civita ed Albert Einstein, operando soprattutto in Italia. Biografia Allievo di Max Planck, fu dapprima professore di meccanica razionale nel Politecnico di Milano, tra il 1909 e il 1915, poi di fisica nei Politecnici di Stoccarda e Monaco di Baviera. I suoi lavori più importanti concernono l'elettrodinamica, specialmente si devono a lui notevoli progressi nello studio della dinamica dell'elettrone. Opere 1904-1905 Teorie der Electricität Pubblicazioni Abraham, M, Dynamic des Electrons, in Gottinger-Nachrichten, 1902, pp. 20-41 Abraham, M, Principian der Dynamik des Electrons, in Physically Schedate Schrift, Vol. 4, 1b, 1902, pp. 57-62 Abraham, M, Principian der Dynamik des Electrons, in Annalen der Physik, Vol. 10, 1903, pp. 105-179 Abraham, M, Die Grundy Potesender Electronen Teorie, in Physically Schedate Schrift, Vol. 5, 1904, pp. 576-579 Abraham, M, Zur Theorie der Stralungung des Stralungsdrucks, in Annalen der Physik, Vol. 14, 1904, pp. 236-287 Abraham, M. E. F. U. P. L. A. Teorie der Electricität, E. Inforung in Die Maxwellske Teorie der Electricität, Leipzig, Teubner, 1904. Abraham, M., Teorie der Electricität, Electromagnetische Teorie der Stralung, Leipzig, Teubner, 1905. Abraham, M., Relativität und Gravitation. Erwiderung aufhinebemerkung des Erna. Einstein, in Annalen der Physik, Vol. 38, 1912, pp. 1056-1058. Abraham, M., Nochmalz Relativität und Gravitation. Demerkungenzua Einsteinserviderung, in Annalen der Physik, Vol. 39, 1912, pp. 444-448. Abraham, M., D. E. Neu e Mechanik, In Scientia, Vol. 15, 1914, pp. 8-27. Note. Altri progetti. Wikisource contiene una pagina dedicata a Max Abraham Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Max Abraham collegamenti esterni. Tokio Paper tumb agile, pp. 22, pp. 22, pp. 24, pp. 37,3-548. K체 value inаешьbra ops rthering, pp. 32, pp. 38,4-747-845.